La nostra idea, la fattoria delle mucche pazze. Abbiamo costruito una fattoria. Gli scarti della produzione agricola e gli escrementi degli animali vengono raccolte attraverso un sistema di canali chiusi, portati nell'impianto di trasformazione dove vengono trasformati in gas. Successivamente un autobotte caricherà il gas per la distribuzione. E adesso un giro nella nostra fattoria. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS